Siamo TodoSmart, una società nata nel 2012 e abbiamo sviluppato un site builder, una piattaforma per una costruzione di siti automatizzata. Il prodotto innovativo che presentiamo a Sinova è in particolare la realizzazione di una single page application che si basa sulla nostra piattaforma ed ha la possibilità di realizzare un sito internet moderno, attuale, responsive in pochissimi minuti anche per chi non ha nessuna informazione sulle capacità informatiche, su quello che è la dimestichezza con il mondo digitale.